Per il nostro pubblico a casa, anche per voi che siete in cabina, forse lo sapete, c'è stata una discussione abbastanza violenta. Questa mattina il briefing tra Berger e Mansell era cominciato con uno scherzo, poi è finita con parole abbastanza pesanti, è terributo anche Senna e c'è abbastanza, così, c'è un po' di elettricità qua sulla pole position e anche nella fila dietro per cui... Oh! Per cui... Va, va, va! Eh, va, va! Ecco, come vi stavo dicendo, il primo appena di Spagna, speriamo di arrivare in denni ai nostri box, ci sentiamo tra poco. Eh, va bene, ma su queste immagini concitate abbiamo visto veramente tanto traffico e lo vedete ancora.